E' stato segnalato per essere stato trovato in possesso di 0,90 grammi di marijuana dentro una tasca dello zaino, un malese di 27 anni richiedente protezione internazionale. Fermato dalla polizia, altro segnalato per essere stato trovato alla guida della sottovettura dopo un incidente autonomo, dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Un uomo di 54 anni che in seguito all'incidente autonomo in Via Leone XIII, la cui dinamica è ancora da accertare, ha riportato una ferita al labbro superiore.